La Sabri Epica, il libro della felicità, su Amazon e in tutte le librerie Sì, sto per fare una cosa che non dovrei fare, ma mi piace tantissimo Buongiorno mia amata Puzzola, come state? Spero tutto, 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 tutto bene Sono Sabri, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi Qui sotto in descrizione trovate il mio merchandising E se volete farvelo regalare per Natale Eccoci qui, come potete vedere dal mio accanto nuovo Pussolona Sono pronta per entrare a fare un video nel mio server È mattina, sono le 11.22, quindi la gente dovrebbe essere a scuola E sono magari quelli che sono a casa malati oppure i più grandi Cos'è successo? Che sto entrando nel mio server privato col nome di Pussolona C'erano anche le luci, sì, Pussolona sono io, ma ovviamente nel gioco non sarò io E voglio controllare, spiare i fan e vedere che cosa fanno Mentre io non ci sono nel mio server, perché molto spesso mi arrivano i messaggi Ecco scritto Ciao Sabri, siamo in fila Ma io vengo a registrare un video al mese che siete in fila La gente sta in fila per 24 ore, vabbè, comunque Andiamo a vedere che cosa combinano Ovviamente si sta connettendo Adesso cambieremo un attimino l'avatar Giusto per non essere proprio come inizio 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 E chi siamo? Noi siamo delle ragazze Siamo una ragazza che si chiama Mirta Facciamo che siamo Mirta da Roma Carino Io quando facevo gionastica artistica, cioè quando allenavo avevo una bimba che si chiama Mirta Mirta, Mirta Adesso era grande, il tempio aveva 3 anni Adesso ne avrà, boh, 23 Ciao Mirta che ti allenavo quando facevi l'asilo Dobbiamo scegliere il colore, io metterò viola Ci leviamo questa maglietta con la pizza E ci mettiamo, abbiamo la canottiera ovviamente Ci mettiamo qua da carcerato Vediamo un po' come mi sta Non male Dobbiamo levarci questo berrettino perché non mi piace molto Così poi possiamo metterci i capelli I capelli, come ce li ha Pussolona? Ah, è di marca, ho la maglia di Witton Pussolona avrà i capelli Con le trecine Eh, Pussolona, non mi piace Ah ok, rosa così mi piacciono Eh, i pantaloni Come potrebbero essere per stare in tinta? Con i fiorellini rosa? Vediamo un po' Va bene, dai Pussolona ci piace Mettiamoci un accessorio Sembro però, eh, così Un accessorio Ah, il bidone! Ci mettiamo nel bidone Beh, se mi metto nel bidone non mi vede nessuno No, mi vedono lo stesso E vabbè, non ci mettiamo nulla Andiamo però a cambiarci il colore della pelle Ce lo mettiamo così Così siamo diventati un po' normali Sì, no, ma raga sono incassatissima Perché sono così incassata? Sono proprio i casi E come si corre con il cartoon Quindi back Ovviamente ci siamo Grazie, sei bellissima Sì, più o meno Non mi faccio impazzire Ma vabbè Sì, sappiamo che possiamo editare la casa E andiamo Intanto voglio vedere cosa scrivono in chat Ciao a tutti Eh, chi vuole giocare a Squid Game Si vincono cose Un'altra volta Non mi devo fidare Ok, dove si paga? Venite Non so, qualcuno vuole giocare a Squid Game Vediamo dove giocano a Squid Game Ciao Dove si gioca a Squid Game? Andiamo al centro Ciao a tutti Ciao a tutti Vediamo se qualcuno mi risponde Allora, mi interessano i pet di Halloween Però non ho la tart Allora, qua stanno facendo scambi Ah, questo coso qua è perché È buggato Sarebbe la cosa dell'ursery L'ursery della nursery Ma cosa stanno facendo? Julie cerca Fida Ok, fammi vedere l'offerta Io ho pet Allogene Scambio il delfino che non si trova più Nessuno mi risponde Ciao Come si fa a giocare a Squid Game? Dai, nessuno mi risponde Mi spiace Pipì Giocate la prossima partita Ho sette anni Ok Io sto andando qua perché Se no non mi andavano via le frecce Quindi fatemi prendere sto Dannato ovetto Grazie signore Dammi pure l'ovettino Ok, grazie mille Devi andare al Al campeggio Allora, dobbiamo andare al campeggio per giocare a Squid Game Vediamo che cosa hanno organizzato i fan Io li adoro quando creano cose Il campeggio però è di là Mi sono persa Ci siamo persi Mamma mia Dove andiamo? Cerco Fida Prima devo andare al campeggio Poi cerchiamo un Fida Vai Il campeggio dovrebbe essere Di là Perfetto Sapete se viene la Sabri? Oddio Ma oggi entra la Sabri? Non lo so se entra la Sabri Sto arrivando al campeggio per giocare a Squid Game Vai, vai, vai Uh, però devo togliere l'uovo perché altrimenti capiscono che sono nuova e magari non mi fanno giocare Vediamo un po' Contro il muro esce un tastino Amo la Sabri Anche io ti amo Chi sei? Zia Pia Nutella Ok Ma raga, ma dai Ma dov'è Squid Game? Grazie, ma nessuno mi parla Perché dice che se non ho un pet ride Non sono nessuno Ma raga, ma cosa state dicendo? Ah, forse devo entrare qui dentro In questa casa per giocare a Squid Game Vediamo un po' Io sto andando a casa di qualcuno Wow Che bella casa di Natale Ma no, ma raga Che casa bella è? Fammi un po' vedere qual è Exit Home Ma è quella piccola Ma amore, ma sei stata bravissima ad adobbarla così È stupenda È bellissima tutta tema di Natale Ecco, dovrei farla anch'io la stanza, la casa di Natale Bello ragazzi, quanto vi impegnate È stupenda Che bella casa che hai Sei ispirata un po' a me per la cucina Bello, 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 bello Bene, non siamo riusciti a giocare a Squid Game Va bene, allora andiamo qua Al centro Ciao ragazzi Sono super povera Qualcuno sa se oggi entra Sabri? Vorrei chiederle un pet in regalo Secondo voi me lo dà? Sto provando ragazzi Vediamo se qualcuno mi risponde Non mi risponde nessuno Non mi risponde nessuno Qualcuno mi farebbe un regalo Sono proprio nuova Adesso invece tiro fuori Questo qua, lo starter egg Così capiscono che sono nuova Fai trade solo con gli amici Nessuno mi fa un regalo? Fan di Sabri, Franci, Giulio e Andre Lei cerca lavoro Grazie Valentina mi ha fatto un regalo Grazie Che carina Vale Sei stata carinissima Come posso avere un pet scimmia? Vediamo se qualcuno mi risponde Ciao sapete che ora viene la Sabri Quando fai video Oddio Dice Luz Perché stanno facendo i trade Si vede che usano il sito che uso io E quindi gli da Luz Devi traddare con la gente Con chi ha la scimmia Ma io non ho la scimmia Ma io non ho nessun pet Qualcuno può regalarmene uno? Nessuno mi regala un pet Sono proprio sfortunata Dovrei giocarmi la carta che sono un'amica di Sabri Ma Cercofida Ciao Cercofida Ehi tu Cercofida Vuoi essere il mio fida? Sono qui Sono ricca Ho la maglia di Guiton Ehi Sono qui Sono carina Perché non mi guarda? Solo perché ho il pet iniziale Ehi Roby Non riesco a vedere il tuo nome Roby qualcosa Perché non vuoi essere il mio fida? Ale Ehi Anche io cerco fida Io Ma no Guardate Gallina gamer Vuole rubarmi Ma che vuoi? Mi ha detto Raga Roby Jenny Sabri Franci Mi ha detto Ma che vuoi? Voglio un fida E faccina triste Se non mi piaci Ma perché? Sono carina Cosa non ti piace? Dai Ma guardate quanto sono carina Sì effettivamente sono un po' così Dai Perché non ti piaccio? Dai Sono stata Tutto Posso cambiarmi Se vuoi Posso cambiarmi Se vuoi Beh Perché Se non ti piaccio così Sul server Io posso cambiarmi No Ma mi rendi triste Ma mi rendi triste così Non ti interessa nulla Che mi rendi triste Cerco fida Uffa Lo dico la Sabri Vediamo cosa mi rispondi adesso Ale che cerchi fida Ero io la tua fida E non mi hai voluto Ma se non mi piaci Perché non ti piaccio? Sono simpatica Cioè l'aspetto fisico Raga Chi se ne frega Voi dovete ricordarvi una cosa Certo Come no Non ti ascolta neanche No la Sabri mi ascolta Ricordatevi che l'aspetto fisico Non è solo importante Con le persone Allora Magari quando siete piccoli Voi guardate molto quello Ma in realtà Dovete guardare che cosa Una persona ha dentro Chi se ne frega Se una persona non è perfetta Magari ha dei difetti A prescindere che tutti Abbiamo dei difetti O magari c'ha un chilo in più Un chilo in meno Ha i brufoli Ma chi se ne frega Guardate dentro le persone Dovete piacervi Per quello che siete Non per Non Cioè Per siete interiormente Non esteticamente Una persona Deve piacermi per quello Non per come è vestita Se hai soldi Se non hai soldi Ma chi se ne frega Cerco fida Sono simpatica Ragazzi Sono stata fregata Non sono piaciuta Non sei il mio tipo Come è il tuo tipo Vediamo dai Voglio capire Com'è il suo tipo Posso cambiare Per te Raga Non è vero Non cambiate per le persone Voi dovete essere Quello che siete Non cambiate Per un'altra persona Io voglio solo vedere Che cosa mi dicono Ma guardate Quante fidanzate Che ha sto tipo Ma ragazzi Ma quante fidanzate hai Sono la sorella Della Sabri Gamer Certo Coalina Sei proprio la Nicole Ma sicuramente Vado a cercare Un fidanzato D'altra parte Un'amica Chi vuole Essere Mia amica Sono molto Triste Oggi Magari oggi Qualcuno vuole essere Mia amica Allora Non sono riuscita A farmi regalare un pet Non sono riuscita A trovare il fidanzato Almeno un'amica Nessuno vuole essere Il mio amico Dai Vi prego Nessuna amica Sabri dice Che dobbiamo Fare amicizia Mi gioco la carta Alla Sabri Vaffammo Mi ha mandato Un trade Ma io non ho niente Ho soltanto Un toys Ho solo questo qua Che mi è stato regalato Una cucuvaia Uno snow puma Ma forse me li vuole regalare Un Halloween Black cat Ma io non ho nulla Non ho nulla da darti Vaffammo Eh Non avevo nulla Sono povera Perché non vuoi più essere Mia amica Io voglio essere tua amica Cerco amici Nessuno mi vuole Nessuno mi vuole Vediamo se qualcuno Così mi cerca Seguimi Ti do il pet Allora la seguo Però no Anche se non ce l'ha con me Fammi vedere Se sei ricco Adesso vogliamo vedere Se sei ricco Dai Facci vedere Se sei ricco Vedo che non vuoi Neanche essere Il mio fidanzato Ragazzi Non sono riuscita Ne a farmi un fidanzato Ne a farmi un amico Ne a farmi niente In questo server Voi persone che siete dentro Puzzate che non mi avete visto Guardate Ho voluto essere miei amici Bunny mi ha mandato un trade Forse Bunny mi vuole regalare qualcosa No di certo non vorrà regalarmi Uno Snow Puma Neon Coalina ha scammato Do soldi per pet Facciamo la fila Va bene Mi metto in fila Per aspettare Sabri E dare il regalo Ok Facciamo la fila Muoio raga Muoio raga Venite Facciamo una fila Così se entra Siamo in fila Ma non so se entra Facciamola lo stesso Aspetta che ti saluto Gaia Buffano 2012 Che ridere Che carini Stanno venendo in fila No Non stanno venendo in fila Venite a fare la fila Non superate Io vi amo tantissimo Odiosa Sì Stiamo facendo la fila Forza in fila Se fanno la fila Poi gli dico Che sono io Se facciamo Se facciamo La fila Per me Entra Cricca mi ha invitato Un party Allora ho accettato Il party in pizzeria Ma certo che accetto Ah ma dovrei andarci ora No adesso devo fare la fila Venite in fila Pusole Beh per ora dai Siamo in tre in fila E' andata bene Chi è la terza Edfrfrug Coalina mi invita Un party Donazione Ma che donazione Ma io non voglio fare Nessuna donazione Non ho soldi Sono nuova Principessa cane E' arrivata anche lei A far la fila Ma raga ma quanti Ah questa è una richiesta Di trade Non ho niente Ho soltanto questo Non mi dispiace Non posso traddare niente Cerco amici Io Io cerco amici Alice the best Cerco amici e lavoro Anche io lavoro Anche io cerco lavoro Ma cosa vuol dire Che cerchi lavoro Facciamo qualcosa insieme amici Vediamo se riusciamo A fare qualcosa insieme Chi è russa Io non russo Ti posso far lavorare in hotel Sì vorrei lavorare In un hotel Mi piacerebbe molto Lavorare nell'hotel Ok ma mi paghi No raga sto male Voglio vedere Mi candido Come posso fare Il colloquio Tra l'altro Questa è una vestita Come me Quando ero da paperotta Tu vuoi lavorare Nel mio hotel Sta succedendo cosa Ragazzi Posso vedere Il tuo hotel Ok allora vieni Non penso Ce l'abbia con me Ma io seguo Vado da gallina gamer Ragazzi Voglio vedere L'hotel di gallina gamer Wow Servizi Servizio in camera Giro in barca Zona pet Relax spa Gallina gamer Ma sei fantastica Normal 30 Vip Ah normal 30 Vip 40 Se portate un amico Solo 20 euro Come funziona Hotel i fiori di lilla Rispettare le regole Andare alla reception E poi ci penseremo noi Wow Bellissimo Bellissimo Venite Andiamo a vedere Questa è la prima camera Questa è la prima camera Ah questo è il cinema C'è anche il cinema Ma ragazzi È stupendo Bellissimo Tutti seduti Cosa guardiamo? Eh raga Stavolta non sono io Sabri Perché sono una che sta giocando Quindi devo rispettare Le decisioni degli altri Squid Game Ma ho paura Guardiamo un video di Sabri Magari quello che sta registrando Ora in questo server Proviamo Perché forse Sabri sono io Vediamo se mi credono Vediamo se qualcuno mi crede Ti segnaliamo Mi hanno risposto Report Raga sto male Amici Se io fossi Sabri Vediamo se qualcuno mi crede Ok Nessuno Non mi sta calcolando nessuno Ragazzi non mi credono Chi vuole lavorare nel mio hotel? Ma Perché non mi credete? Io sono Sabri Non sei Sabri Non è vero Sì sono io Davvero Lo giuro Sono io Ve lo sto giurando Che sono io Uffa non mi crede nessuno Dannata Questa Sabri fake Allora vieni con il tuo account Ok mi fido Tra virgolette Quindi saluto Tutte queste persone Che sono state Aiuto Leo Nel video con me Saluto anche Gallina Gamer Banni Banni e Alice The best Tu non sei voluto Essere mio fidanzato Ale Mi dispiace Mi sono divertita tanto A giocare con voi Se sei la vera Ok Se no scusami Ma io non mi voglio far fregare Vi mando un bacio Grande 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 Spero di avervi fatto ridere Ci vediamo domani Con il prossimo video Ciao Mori grandi Medi Geo Do you know The Muffin Man The Muffin Man The Muffin Man Do you know The Muffin Man Who lives on Drury Lane Yes we know The Muffin Man The Muffin Man The Muffin Grazie a tutti.